Scusate ma mi chiamano, scusate, mi chiamano dal semaforo, semaforo, semaforo pronto? Pronti! No ma noi, aspetta, aspetta ragazzi, fermi, 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 dove vai? Dove andate? Stai fermi, state fermi, dove andate? Allora signori abbiamo Angelo Vandolini e Carmen Russo, benvenuti! Ciao a tutti! Allora dite cosa ci fanno questa coppia qua, questa coppia qui ha fatto impazzire la Spagna perché avete partecipato a Ballando con le Streia! Sì, ballerina per una notte, hanno spopolato! Hanno spopolato, guardate Madonia, ci potrebbero essere pure 26 gradi sotto zero, ma lui è il re della canotta, guardatelo là! Ma io ho messo il primo vestitino che ho fatto a scuola Maria! Ti posso dire, un vestitino da mattina a quest'ora? Da mattina! Con la pioggia! Alle 5 e mezzo cosa devo mettere? Un pigiama così! Senti, ma adesso questa è la prima volta che abbiamo fatto il cinema, abbiamo recitato, abbiamo ballato mai, cantato, fatto di tutto alle strisce, ma un vero ballo non l'abbiamo fatto mai! Cominciano a suonare! Guarda, state già salutando? Beh, te credo! Voi non ci vede nessuno vestiti così, no? Scusate, ma cosa ballerete? Cosa? E' un mambo! Wow! E' la stessa fotografia, ovviamente taglia... Ma non sbagliare tutto! Allora, posate i microfoni, posate i microfoni e preparatevi, preparatevi... C'è ancora il semaforo rosso! Sì, sì, non vi preoccupate! Se no ci investono! No, 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 e come fai? Carmen, sei più visibile di un semaforo! Cioè, guarda, è come... Allora, siete pronti? Scaldatevi, scaldatevi! Ecco, ci siamo! Si stanno scaldando, ad esempio... 30 secondi mancano, allora... Ecco, scaldatevi! Io voglio proprio vedere gli automobilisti adesso che si ritroveranno con Angelo Madonia e Carmen Russo, guardate l'attenzione... Macchine? Cioè, sì, qualcuno... Chi sono quelli là fermi alle strisce? E devono attraversare! Ah, devono attraversare! Ah, ho capito, ma dovevano aspettare! Quelli aspettano, ma sono matti, chi sono quei due? Hanno fretta, hanno fretta! Scusatevi, spostate, amici? Niente, ma chi sono? Ma aspettano di attraversare già sulle strisce? Sì, in mezzo alla strada! Allora, attenzione, adesso partono! Ci siamo! Ci siamo, Arancione! Sta per scattare! Oh! Eh! Vai, 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 vai! No, 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 no! Allora, non lo fai! Una suga! Ehi! Applauso! Guarda che... Guardi applausi da parte gli automobilisti, grazie! Ah, va bene! Scusa, ma c'è Renzo Paolo Turchi? Renzo Paolo Turchi! No! Scusate, ho visto Renzo Paolo Turchi! Ma sembra di... Supervisor! Ragazzi, ci vediamo dopo, perché... Ci vediamo dopo! Un'altra ballata ce la dovete fare! Ma che meraviglia! Sli tacchi con l'asfalto viscino! Ragazzi, che meraviglia! Che meraviglia!